Buon lunedì, buon inizio di settimana, apriamo il nostro Tg Sud con la sezione della notizia del giorno, ci occupiamo di politica, in particolare andiamo a vedere la nomina di Salvatore Gallufo, la elezione Salvatore Gallufo a nuovo segretario provinciale del Partito Socialista per la provincia di Trapani, ieri il congresso all'hotel Tirreno. Un congresso unitario che ha visto l'elezione dell'avvocato Salvatore Gallufo quale nuovo segretario provinciale dei socialisti in provincia di Trapani, prende il posto di Vita Barbera che ha saputo tenere dritta la barra del Garofano in anni molto complessi per la politica del territorio trabanese e che ha visto nella partecipazione di vecchi e nuovi socialisti una rinnovata voglia di tornare a fare politica. Presente anche l'onorevole Bobo Craxi che si è soffermato sulla necessità di ritrovare un'identità di centro-sinistra. In provincia di Trapani, a Trapani città, ma in generale in tutto questo territorio esiste una radice assai profonda del socialismo, vogliamo dire che parte del socialismo nazionale deve molto alla Sicilia e a Trapani nel secolo che sta alle nostre spalle. E poi perché c'è un bisogno di vedere una politica che sia in qualche modo alleata a dei valori, a dei principi, a delle storie. E questa in qualche modo aiuta, aiuta un partito che è vecchio, che può essere un partito nuovo, se questo partito è in grado di interpretare realmente i sentimenti e i bisogni della gente. Gallufo traccia in tre punti sostanziali la sua linea programmatica. Io credo che il partito necessiti di ascolto, abbiamo la necessità di ascoltarci. Io sono pronto, lo faccio per lavoro, l'ho sempre fatto nella mia vita. Le nostre porte sono aperte, come lo sono state oggi, lo saranno in seguito. E penso che il nostro pollo universitario, che non riguarda Erice, dove ha la sua collocazione, ma l'intera provincia e assolutamente l'intera regione, possa, come già il percorso è stato avviato, essere sviluppato ulteriormente, per consentire esso come ponte di dialogo, di formazione, di sviluppo del nostro territorio. E non soltanto come turismo, che è già in essere. Non dimentichiamoci che il turismo ha un flusso che può variare nel tempo. Abbiamo altre risorse che meritano di essere sviluppate. La nostra agricoltura deve essere famosa nel mondo. Quando noi parliamo di gambero di mazzerà e ballo, passito di pantelleria, aglio di nubia, quello non riguarda quel territorio. Sono delle risorse che valgono regione, nazione e anche oltre. Questo il nuovo gruppo dirigente del PC Trapanese, Salvatore Galluffo, segretario provinciale, Lucia Cerniglia, Maria Piazzichichi, vice segretarie, Gino Paglino, presidente. Nel direttivo vediamo la partecipazione di Vita Barbera, Cati Marino, Anna Barbiera, Yvonne Vento, Vito Valenti, Giuseppe Benenati, Enzo Messina, Dino Manso, Ignazio Grimaldi, Guido Clemente, Giuseppe Alastra, Francesco Grutta, Antonio Consentino, Salvatore Bevilacqua ed ancora Cristian Culcasi, Silvio Mangano, Dino Barbera ed Enzo Favara. Nel collegio dei Probevili invece vanno Franco Ospedale, Calogero di Girolamo, Filippo Bonino e Giovanni di Girolamo. La chiusura del congresso è stata affidata al vice segretario nazionale del PC, nonché segretario regionale in Sicilia, l'onorevole Nino Oddo, il quale ha ripercorso senza disconoscerle le necessarie scelte politiche che soprattutto a Trapani e a Delici hanno portato il PC ad allearsi e sostenere candidati sindaci di centrodestra. Non potevamo andare con chi in questo territorio, ha detto Nino Oddo, ha rappresentato un modo di cercare consensi che non ci ha mai rappresentato. Il riferimento a Giacomo Tranchida, attuale sindaco di Trapani, è stato chiaro e diretto. Tutte le altre notizie tra poco con la prima edizione del nostro Tg Sud. I titoli di oggi, pena ridotta, la Corte d'Appello di Palermo ha condannato a 14 anni di carcere la ragazza che ha ucciso a Trapani il fidanzato. La Corte d'Assise in primo grado l'aveva invece inflitto 21 anni. Parola al GUP, al giudice per le audienze preliminari, perché la Procura di Marsala ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone accusate di bancarotta fraudolenta. Ed ancora, le perplessità della minoranza, il centrodestra, Palazzo Cavarretta, sottolinea ancora una volta i ritardi dell'amministrazione comunale nella consegna dello strumento finanziario. Marettimo in festa, ieri al Via nell'Isola, le celebrazioni in onore di San Giuseppe, ma anche un po' in altre parti della provincia. Per lo sport, invece, alla ricerca di un coach, dopo l'esonero di Daniele Parente, la Trapani Shark cerca il suo nuovo allonatore. Nel calcio vince il Trapani e nella pallamano vince la handball erice. L'approfondimento lo dedichiamo alla banda Mascagni, che compie dieci anni con un evento. È stato celebrato appunto questo anniversario, un concerto che si è tenuto ieri nella chiesa del collegio di Trapani. Andiamo a vedere appunto questo nostro telegiornale, lo apriamo con la cronaca giudiziaria, perché è stata ridotta in appello la condanna per banda Grignani, che ha ucciso il suo fidanzato compagno Cristian Favara. Vediamo. Ridotta di sette anni, la condanna per la donna che ha ucciso il coltellato al Trapani, il fidanzato, la corte d'assise di Palermo, ha condannato a 14 anni di reclusione, Vanda Grignani. In primo grado, la corte d'assise di Trapani, invece, le aveva infritto 21 anni di carcere, vittima dell'aggressione Cristian Favara, di 45 anni, con alle spalle precedenti in materia di sostanze stupefacenti. Agli arresti domiciliari aveva il permesso per andare a lavorare al ristorante da Bettina della madre, con l'obbligo di fare rientra a casa entro le 11 di sera. L'omicidio nella notte tra il 30 e il 31 ottobre del 2021, nell'appartamento della Coppia, in via Vellone, alle spalle della cattedrale San Lorenzo, nella zona del centro storico. Un ritardo di 15 minuti, il motivo di una violenta lite culminata in tragedia. Due le coltellate che Vanda Grignani sferrò al compagno, subito dopo il delitto, la donna venne arrestata dai carabinieri e condotta al Pagliarelli di Palermo, dove è tuttora detenuta. Ormai la mia vita era diventata impossibile, il racconto fornito agli inquirenti da Vanda Grignani. Quella tra lei e Cristian Favara era infatti una relazione assai burrascosa, a fare da sfondo non soltanto le continue violenze, ma anche la tossicodipendenza. Cristian Favara alzava le mani sempre più spesso su Vanda Grignani, tanto che la donna ha detto durante l'interrogatorio di garanzia che era stata costretta a chiedere più volte l'aiuto alle forze dell'ordine. Nel processo d'appello, Vanda Grignani è stata assistita dall'avvocato Agatino Scaringi. Bancarotta fraudolenta a Marsala è stato chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone. La procura di Marsala ha chiesto il rinvio a giudizio per Bancarotta fraudolenta del commercialista Giulio Bellanne di Luigi Vinci, ex presidente del Marsala Calcio, di Giovanna Vinci e Pietro Buffa, titolari e amministratori di due società operanti nel settore della produzione di gelati, dichiarate fallite dal Tribunale alcuni anni fa. Difesi dall'avvocato Salvatore Luigi Sinaltra, giovedì prossimo dovranno comparire dinnanzi al giudice Annalisa Amato per l'udienza preliminare. L'indagine risale dal 2019 e venne condotta dall'allora sostituto procuratore di Marsala, Antonella Trainito. Il 12 gennaio del 2017, davanti al cancello dell'abitazione di Giulio Bellanne, incontrata a Cozzaro, alla periferia di Marsala, venne lasciata in pieno giorno una testa di cavallo mozzata. Per caso si occupò la direzione investigativa antimafia. Le indagini, condotte da carabinieri e polizia, esclusero però la matrice mafiosa. L'autore del macabro messaggio fu individuato in un giovane tabaccaio marsalese che venne rinviato a giudizio per minaccia aggravata. Dall'inchiesta, anche questa coordinata dal PM Antonella Trainito, emersa è che il tabaccaio aveva rilevato la licenza per una rivendita da un cliente di Bellanne, ma non era chiaro il motivo per cui avrebbe tentato di indimidire il commercialista. Andiamo a Palermo perché l'animalista Enrico Rizzi ha sporto denuncia alla polizia per il poni maltrattato. 13 violente e frustate in appena 11 secondi. Questo è possibile vedere nel filmato di una folle corsa al calesse in Viale Sandro Pertini, dimitro fallo Zen 2 di Palermo. Un probabile annelamento, corsa a cronometro di un poni utilizzato nelle corse clandestine. Il filmato, pervenuto ad Enrico Rizzi, influencer per i diritti degli animali, è già stato inviato al questore di Palermo. Siamo innanzi all'ennesimo grave maltrattamento di un cavallo nella città di Palermo, ha dichiarato Rizzi, come il povero poni che appena un anno addietro finì schiantato contro un atomobile in via Mongitore. Invito al questore a mettere in atto quanto necessario non solo per individuare il povero cavallo ora filmato e valutarne l'immediato sequestro, ma anche ad intervenire affinché le strade della città non vengano messe più a disposizione di questi reati. Purtroppo, numerose arterie di Palermo sono state più volte segnalate per la presenza di calessi da corsa, fino al ritrovamento lo scorso gennaio di un cavallo morto nella circonvallazione cittadina. Una polemica, ricorda Rizzi, amplificata dall'incredibile comunicato del comune di Palermo, che sminuì quanto avvenuto, ricollegando il tutto a un non meglio specificato quanto improbabile carro trenato. Rizzi fa altresì riferimento al codice della strada, il quale, al di là dell'uso del veicolo a trazione animale, impone precise disposizioni che vengono però del tutto ignorate. Basterebbe un attento controllo congiunto alla verifica delle stalle, ha concluso l'influencer, per ridurre drasticamente il fenomeno. Rizzi ha avuto di recente aumentata la vigilanza disposta a seguito delle minacce pervenute. Chiudiamo per il momento con la politica. Trapani, l'Aggiunta Comunale, come sapete, ha approvato il bilancio, adesso la parola, il provisionale, adesso la parola spetta al Consiglio Comunale. Dalle fili della minoranza però, diverse sono le perplessità. Doveva arrivare prima all'attenzione del Consiglio Comunale, e invece lo strumento finanziario sarà valutato con diverso tempo in ritardo. Lo sottolineano i consiglieri comunali della minoranza a Palazzo Cavaretta che, ancora una volta, mettono in risalto la difficoltà di poter assicurare i servizi essenziali alla cittadinanza. Di fatto non abbiamo noi il previsionale del 23-25, che sarebbe quello che metterebbe un attimino a posto la situazione economica di queste finanziarie del Comune di Trapani. A quanto pare già gli atti sono arrivati in commissione e quindi avremo cinque giorni per valutare e quindi eventualmente emendare quello che è questo previsionale. La considerazione politica sul bilancio mi pare evidente. Siamo in ritardo già forse di un anno e mezzo. La città non ha strumenti operativi per poter risolvere i problemi dell'ordinaria amministrazione e a ciò si aggiungono delle crisi che stanno poi ad arrivare. La crisi idrica dovuta ai ritardi dell'ATI e soprattutto la crisi dell'Atrapani Servizi, che per ora è sottaciuta anche dall'amministrazione. Ma vi ricordo che ci sono 40 operai in cassa integrazione e i debiti dell'Atrapani Servizi sono tutti a carico del Comune, che fa altro e incontenzioso con l'Atrapani Servizi. Quindi paradossalmente il bilancio che deve essere lo step di rilancio dell'amministrazione e di Trapani verrà ingolfato da questi problemi che sembrano sopravvenuti ma che vengono da lontano. Tutte le altre notizie tra poco nel prossimo blocco informativo. Adesso parleremo delle celebrazioni in occasione della festa di San Giuseppe appunto un po' in giro per la provincia, soprattutto a Maretti Massaremi e poi andiamo a vedere questi misteri in miniatura con l'ottimo servizio della collega Chiara Conticello. E poi lo sport tra la ricerca di un nuovo coach per la Trapani Shark e le vittorie invece nel calcio e nella palla a mano. Andiamo a vedere appunto questo servizio su Marettimo, ce lo propone Mario Torrente per quanto riguarda la festa di San Giuseppe con la cerimonia dell'Alza Bandiera. Ieri a Marettimo si sono aperti appunto i festeggiamenti. La ricorrenza è molto sentita nella comunità di Gadina. Il momento clou si terrà domani pomeriggio con la processione mentre di mattina si terrà la cerimonia delle alloggiate. Ieri pomeriggio in piazza ci sono stati invece i giochi folcloristici mentre oggi alle 18.30 si terrà la Damuniara con l'accensione dei tre falovotivi in onore di Gesù, Giuseppe e Maria. Spazio anche all'intrattenimento con gli spettacoli organizzati nell'ambito dei festeggiamenti. Si è iniziato ieri sera con la musica dei Los Deseos e il cabaret di Giuseppe Castiglia mentre stasera toccherà Lidia Schillacci e la sua band. A seguire ci sarà lo spettacolo di cabaret di Toti e Totino. Domani sera, dopo il rientro delle processioni con l'estate di San Giuseppe e San Francesco di Paola attorno alla mezzanotte ci sarà lo spettacolo pirotecnico per la conclusione dei festeggiamenti in onore del patrono di Marettimo. Da Marettimo a Salemi sempre per la festa di San Giuseppe. Salemi in festa per la tradizionale festa di San Giuseppe contemporanea tradizione in programma già dal 16 marzo e fino al giorno 24. Nove giorni durante i quali la città che si è classificata al terzo posto nel contest nazionale Borgo dei Borghi 2023 apre le porte ai tantissimi turisti e visitatori che giungono da varie parti della provincia da Palermo e anche ben oltre con i tradizionali altari di pane che l'hanno resa celebre in tutto il mondo. Il cartellone varato dall'amministrazione comunale attraverso l'assessorato al turismo con la collaborazione della Proloquo e di altre associazioni prevede iniziative culturali, musica, convegne ed eventi sportivi. Anche quest'anno è stato previsto un servizio busnavetta da Piazza Vittime di Nasseria a Piazza Libertà per le giornate clou della manifestazione. Abbiamo sentito il sindaco Domenico Venuti ed un'operatrice dell'associazione Nuova Sicilia Bedda a Cettina Grassa che ci parlano dell'evento e della tradizione. Un punto di riferimento importante per una festività che ha una matrice religiosa ma che abbiamo voluto trasformare in una declinazione anche contemporanea attraverso mostre, installazioni, attraverso artisti in una vera e propria festa che vede al centro gli altari, al centro il pane con la coralità di una comunità che si riunisce per lavorare, preparare tutto questo in una cornice splendida che è quella del nostro centro storico e rispetto agli altri anni dopo diversi stimoli ci sono cinque privati che hanno fatto e faranno nei prossimi giorni durante la giornata di San Giuseppe anche delle cene ex voto. Ragazzi che hanno addirittura allestito una delle due cene dei due altari proprio voluti dal comune perché l'aspetto sociale che si lega a San Giuseppe è davvero rilevante. Un doppio risultato in un momento in cui i ragazzi sono proiettati altrove spesso vanno via qui c'è anche addirittura un ritorno di ragazzi che ho visto essere ritornati magari anticipatamente rispetto a Pasqua per venire a lavorare a collaborare per la realizzazione di questa festa che ripeto ormai è davvero un punto di riferimento imprescindibile per tutti noi. Siamo qui per fare vedere la lavorazione del pane perché tante persone che vengono pensano che si usano delle forme invece è tutto a mano allora per far rendere conto di questa cosa ci mettiamo qui e diamo dimostrazione. questo pane viene iniziato almeno un mese prima molto lavorato bisogna iniziare molto presto naturalmente si chiede aiuto a tante persone noi come associazione già siamo in tanti. Tutti i giovani che fanno parte del gruppo folcloristico si avvicinano a questa tradizione e quindi viene portata avanti perché naturalmente in un mese tu vedi oggi vedi domani devi imparare l'anno dopo impari ancora quindi queste tradizioni camminano anche fra i giovani non si ferma fra le persone più grandi. Siamo contenti quando i ragazzi sono entusiasti loro stessi di vedere che anche loro possono e riescono a fare queste cose. Inaugurata sabato a Palazzo Cavaretta Trapani la mostra intitolata I Misteri in Miniatura a cura dell'artista Vito Romano l'evento è stato organizzato dall'associazione culturale Salviamo le Tonnare Sarà visitabile fino al 21 marzo e dal 29 marzo al 4 aprile la mostra I Misteri in Miniatura inaugurata sabato pomeriggio a Palazzo Cavaretta l'evento la cui inaugurazione ha visto anche la partecipazione del gruppo musicale Agro e Ricino che ha deliziato i visitatori con la musica tipica del venerdì santo a Trapani è stato organizzato dall'associazione culturale Salviamo le Tonnare è curato da Nino e Mariella Castiglione volevamo presentarci a Trapani abbiamo conosciuto l'artista Vito Romano e siamo riusciti a creare un evento che è una mostra secondo me è fantastica la città di Trapani vedo che sta accogliendo in maniera positiva questo evento e quindi siamo qua con la nostra associazione culturale Salviamo le Tonnare una raccolta di affascinanti rappresentazioni in miniatura dei misteri accuratamente ricreati dall'artista trapanese Vito Romano che per realizzarli ha impiegato ben 14 anni l'idea nasce dal fatto che i trapanesi i misteri ce l'hanno versando praticamente poi se mettiamo pure il lato artistico è un connubio indivisibile io ho iniziato con la passione delle miniature poi ci mettiamo pure la fede l'arte e quindi è stato tutto un mescuglio di Vito Romano la mostra che oltre alle rappresentazioni di Vito Romano presenta anche due dipinti dell'artista Francesca Giammino che rappresentano una Madonna addolorata è stato patrocinato dall'Unione Maestranze dall'Assessorato Regionale e Beni Culturali dell'Identità Siciliana oltre che dal Comune di Trapani e di Elce i misteri sono il Comune di Trapani il Comune di Trapani è da tradizione accompagna sostiene i misteri ma poi c'è anche un pregio di ordine artistico da parte di Vito Romano io devo fare complimenti tanto all'Associazione di No Castiglione quanto alla sua signora Mariella per aver consentito che si potesse diciamo tenere questa mostra qui siamo ormai prossimi proprio alla processione vedremo poi i gruppi sacri per le vie della città e soprattutto si rilancia anche un momento se volete di pietà popolare però anche di vicinanza ulteriore a quello che è il valore della settimana santa e soprattutto a quello che significa la Pasqua complimenti complimenti davvero all'artista Vito Romano andiamo invece a vedere il secondo appuntamento della Domenica a San Liberale organizzato da Fai di Trapani che si è svolto ieri la chiesetta di San Liberale continua a incuriosire sempre più trapanesi dopo il successo del primo evento si è svolto ieri il secondo appuntamento della Domenica a San Liberale organizzato dalla delegazione Fai di Trapani e il gruppo Fai Giovani di Trapani in collaborazione con la diocesi di Trapani la parrocchia San Francesco d'Alsisi e alcune associazioni locali l'evento di ieri pomeriggio ha avuto come tema donna, musica, primavera la professoressa Sara Pianelli volontaria Fai Giovani di Trapani è stata la guida narrativa dell'incontro che si pone l'obiettivo di esplorare e conoscere la storia della chiesa di San Liberale poi è stato il turno di alcune testimonianze di donne del quartiere organizzate dal comitato di quartiere passeggiata Maria Carolina che sono riuscite a donare una prospettiva unica e coinvolgente sulla vita della comunità locale spazio poi alla musica con gli intermezzi musicali del violinista Mauro Carpi e del pianista Tony Terrasi a cura del Lions Club di Trapani il cuore di questa serie di aperture domenicali pianificate mensilmente è quello di valorizzare la chiesa di San Liberale spingendo la popolazione trapanese a riscoprire la bellezza di questo luogo sacro l'obiettivo è stimolare una partecipazione più attiva e appassionata affinché la chiesa diventi una parte integrante della cultura e della tradizione della città per gli appuntamenti sul nostro gruppo editoriale vi segnalo oggi pomeriggio alle 18 sulla nostra pagina facebook la diretta della scinnuta della madre pietà dei massari invece sul canale 88 del digitale terrestre stasera alle 20.45 poi in replica a mezzanotte andrà in onda una nuova puntata di Sport Sud il lunedì ospiti in studio con Stefania Renda Giulio Antonini portiere del Trapani Calcio Valeriano Dorta il direttore sportivo della Trapani Shark Norbert Biasizzo della Handball Erice e i giornalisti Savatore Barraco e Giuseppe Cassisa la SD Rugby Elimi Trapani sarà in tribunetta alle 23 nel frattempo una nuova puntata di Respubblica con ospite l'onorevole Ninodo che commenta appunto il congresso provinciale del PC di ieri ma non solo ci sarà spazio anche per altro tra poco lo sport ed eccoci allo sport un fine settimana complesso per la Trapani Shark una sconfitta quella di sabato in Coppa Italia che ha portato all'esonero di coach Daniele Parente non sono bastati i numeri da capogiro di questa stagione vediamo adesso siamo alla ricerca appunto di un nuovo allenatore un fine settimana complesso per la Trapani Shark una sconfitta quella di sabato in Coppa Italia che ha portato all'esonero di coach Daniele Parente non sono bastati i numeri da capogiro di questa stagione tre sconfitte in 26 partite la decisione maturata dal presidente già nelle settimane precedenti ha raggiunto l'apice sabato sera ieri mattina la comunicazione ufficiale e il via alla ricerca del nuovo allenatore il presidente Antonini al termine della partita aveva parlato così beh diciamo che la squadra non ha praticamente mai giocato non è entrata in partita si è viso subito dal primo quarto abbiamo fatto credo il record negativo di tiri da tre di percentuali bassissime una delusione enorme per tutti i tifosi che sono uditi da Trapani partita indecorosa della squadra ho visto alcuni giocatori spenti il che mi fa mi lascia molti dubbi sul proseguo del campionato perché se giochiamo così le partite decisive dei playoff è chiaro che la paura che venga distrutto tutto quanto di buono fatto fino ad oggi c'è la conduzione tecnica mi ha lasciato desiderare in maniera pesante sono in corso riflessioni già da tempo su questo è chiaro che perdere con 30 punti di stacco contro una grande squadra ma che certamente non aveva dimostrato durante il campionato di avere un vantaggio di questo tipo su di noi è chiaro che mi fa fare delle riflessioni sulla sconfitta di Roma dice la sua anche Nicola Basciano DS della Fortitudo Bologna sicuramente giocata ad altissima intensità da parte nostra una partita in cui credevamo e volevamo portare a casa il risultato speriamo di affrontare una squadra con tanto talento costruita sicuramente per ottenere grandi risultati come comunque dimostra il campionato che ha fatto finora sono convinto che una sconfitta per Trapani non sarà condizionante ovviamente il cambio di allenatore porterà nuove idee nuove evoluzioni però la fiducia che ha la città nel presidente fa sperare per Trapani ovviamente da parte mia abbiamo ottenuto una finale importante ora via al toto allenatore di sicuro il presidente Antonini ha la ricerca di un grande nome per la panchina granata di un allenatore che porti la squadra alla vittoria del campionato ci sono dei nomi caldi quello di Diana presente a Roma quello di Simone Pieringiani e di Repeja le prossime ore saranno decisive anche perché la squadra domenica ha la dura prova con Udine certamente qualcuno che ha vinto c'è e al di là dell'esito della finale vinta poi da Ferli i nostri tifosi granata possono certamente essere definiti dai vincitori hanno riempito di granata le strade di Roma Roma si colora di granata per un attimo solo per un attimo il granata ha preso il sopravvendo sul giallo rosso sempre predominante da quelle parti e sul biancazzurro i colori di casa giocare nel palazzetto di Roma con la squadra del mio cuore in semifinale per la Coppa Italia e che quanto dire abbiamo un presidente che è magico cosa vuoi di più l'emozione di questa trasferta a Roma? ce la stiamo godendo tutta ce la godiamo e speriamo di andare avanti anche domani è insomma emozionante emozionante quando siete arrivati quando ripartite? siamo arrivati questa mattina e ripartiremo lunedì quindi vi godete anche un po' l'ambiente romano? ci godiamo tutto il momento l'entusiasmo dei tifosi trapanesi ha avvolto il centro della capitale fra piazza di Spagna e piazza del popolo dove domenica mattina ha preso il via la storica maratona con oltre 15.000 iscritti una passione travolgente che non è passata inosservata ai romani molti dei quali hanno socializzato con i supporters siciliani incoraggiandoli al grido dai e trapani del resto calcio e basket trapanese dopo l'avvento del presidente Valerio Antonini vengono seguiti con molto interesse dallo stivale è una bellissima emozione si sente un po' il pathos delle grandi occasioni un po' tutta la città ci sta seguendo sembra che siamo quasi mille tifosi che sono venuti da trapani c'erano tre aerei pieni oggi quindi grande entusiasmo veramente dopo nove mesi essere riusciti a trasformare una città che stava un po' patendo questa situazione di obbligo sportivo in emozione unica è la mia più grande soddisfazione i tifosi Granata ci hanno creduto hanno sognato hanno caricato la squadra dando anche spettacolo sugli spatti del palazzetto con un tifo incessante è andata male ma loro sono stati i protagonisti indiscursi di una trasperta che ha avuto un epilogo amaro una certezza la sconfitta pesante non ha scalfito l'amore verso una squadra simbolo di riscatto di un'intera città ci saranno altre anche più importanti occasioni per dimostrare ancora una volta quanto sono bravi e belli i tifosi Granata a seguito della loro squadra dal basket andiamo al calcio perché insomma adesso la Lega Pro la Serie C è sempre più vicina per il Trabani che ieri ha vinto nettamente a Lancia e Galatea 4 a 0 per i ragazzi di mister Torresi Ennesima prova di forza del Trabani che si avvicina sempre di più alla Serie C andando a vincere largamente ad Acireale per 4 a 0 torna tra i titolari l'ex Giovanni Sbrissa che al diciottesimo impegna Bollati con una soluzione dalla media distanza dopo nemmeno un minuto Uikeai blocca agevolmente la soluzione di Cicirello al trentacinquesimo il gol del Trabani azione mantenuta viva dopo un calcio da fermo pallone da favola di Sbrissa per convitto il quale mette in condizioni crimi di battere a rete da pochi passi 0 a 1 secondo gol in campionato del centrocampista che festeggia al meglio i suoi 34 anni nel secondo tempo al cinquantaduesimo il raddoppio del Trapani è una perla di convitto stop a seguire dell'ex Vibonese che scappa via al difensore e con il mancino trafigge per la seconda volta il numero 1 acese la Cireale si sgretola il Trapani ne approfitta al settantaduesimo il punto dello 0 a 3 palla in profondità di Sbrissa Bollati in uscita butta addosso a Maltese la sfera che si deposita in fondo alla rete il poker granata arriva al settantottesimo lancio lungo di a quadro difesa della Cireale impreparata c'è Samachie che lascia rimbalzare il pallone per poi colpirla con la testa e anticipare l'uscita di Bollati costretto poi a lasciare il campo per infortunio la Cireale termina in 10 entra a Giappone all'ottantaquattresimo Marigosu sfiora lo 0 a 5 dopo due minuti di recupero a Cireale Trapani è storia il Trapani resta più 14 sul Siracusa e la Serie C è vicinissima sapevamo che oggi la partita era una partita molto complicata ho detto ai ragazzi in settimana che penso che era la più complicata da quella fine l'avevamo già visto per gli ultimi soldi della Cireale soprattutto poi per quello che ha dimostrato in casa nelle uniche partite che ha perso veramente poche con squadre solo importanti noi eravamo chiamati ancora una volta a una grande prova soprattutto sotto l'aspetto mentale e penso che oggi è escluso un tiro di Uicai da 50 metri di Cicirello 40 metri abbiamo mai subito un tiro in porta della Cireale siamo stati padroni assoluti della gara soprattutto sotto l'aspetto della gestione e quindi sono contento perché era importante vincere era importante dare ancora dimostrazione alla nostra forza in un ambiente complicato come quello di Aici Reale per tradizione e poi era un derby particolarmente sentito e quindi quando vieni qua subisci poco dimostri la tua supremazia a livello proprio di gestione perché abbiamo fatto una partita secondo me attenta da squadra importante lasciando magari alcune volte un po' un po' diciamo di pallino del gioco all'Aici Reale ma veramente soprattutto su alcune situazioni sul lanci lunghi dove il primo tempo loro sulla nostra pressione alta mettevano queste palle lunghe quindi abbiamo un po' sofferto la profondità che magari abbiamo un po' concesso cosa che comunque è il secondo tempo che abbiamo subito sistemato con delle uscite in fase di non possesso diverse quindi abbiamo sofferto un po' la fisicità di Zuppel su questi lanci lunghi su di lui però poi per il resto penso che abbiamo fatto un'ottima partita successo anche per la handball Erice sconfitta al Padova 34 a 25 l'handball Erice ha subito rimediato al passo falso della scorsa settimana con il Bricsens U-Tirol vincendo sabato con Padova al Palacardella una partita in controllo delle arpie dall'inizio alla fine con la Tarbuk e la Gorbaciova a far la voce grossa con nove reti a testa Sì molto importante non possiamo perdere nessuna partita perché sennò rischiamo di entrare ai playoff quindi tutte le partite saranno finale Probabilmente non è stata la migliore prestazione da parte di Erice però vincere è sempre importante dove deve migliorare Erice? Sia in difesa che in attacco possiamo migliorare dobbiamo migliorare la seconda fase soprattutto a volte perdiamo troppi paloni molto veloce e niente penso che dobbiamo lavorare su tutto perché possiamo migliorare tanto essere stata lo scorso anno per Erice tu eri presente quanto è importante per questo finale di stagione dove le partite iniziano a contare per gli obiettivi? Sì tutte le partite come ho detto prima sono importantissime dobbiamo vincere perché non c'è un altro dobbiamo arrivare al nostro obiettivo dobbiamo focalizzarci e lavorare per raggiungerlo in attesa di entrare nel vivo della Settimana Santa ieri pomeriggio sono stati celebrati i dieci anni della banda musicale Pietro Mascagni del gruppo La Dolorata parliamo dei misteri appunto di Trapani un concetto emozionante con la partecipazione del coro Voci e Colori Nel suggestivo scenario che si avvia verso la Settimana Santa a Trapani la città si è riunita in un clima di profonda devozione durante il concerto tenutosi ieri pomeriggio presso la chiesa del collegio dei Gesuiti diretto dal maestro Alberto Anguzza e organizzato dall'associazione Addolorata banda musicale Pietro Mascagni l'evento celebrato in occasione del decimo anniversario della banda Mascagni del gruppo della Dolorata ha offerto un'esperienza musicale avvolta da un velo di sacralità con la presenza commovente dei piccoli studenti del coro Voci e Colori dell'istituto comprensivo Gianciacomo Ciaccio Montalto la partecipazione della cittadinanza all'interno di una chiesa gremita ha evidenziato un sentimento di fervore e appartenenza celebrando un momento di straordinaria importanza spirituale Trapani si prepara si prepara a vivere la sua amata processione con mostre scinnute e concerti arricchendo l'atmosfera con quel tocco di gentilezza sacrale che contraddistingue la propria trapanesità tra i presenti al concerto il presidente dell'Unione Maestranza Giovannello D'Aleo che ha sottolineato il senso di appartenenza di questo grande progetto elogiando l'impegno e la volontà dell'intera comunità nel far crescere la processione dei misteri divenuta un evento apprezzato e visto in tutto il mondo le parole della dirigente Anna Maria Sacco dell'istituto Montalto hanno ringraziato il gruppo La Dolorata e il maestro Anguzza per l'opportunità di convolgere i bambini nel concerto dando voce ad un coro angelico il coro Voce a Colori nato nel 2016 su iniziativa delle docenti Cinzia Mistretta e Francesca Carpitella è stato riattivato dopo il periodo pandemico grazie all'impegno del maestro Alberto Anguzza del professore Paolo Genovese e della dirigente Anna Maria Sacco proseguendo così la tradizione con la partecipazione al concerto della banda musicale Pietro Mascagni e alla prossima processione dei misteri sottolineano le due insegnanti una banda nata per caso dieci anni fa nessuno avrebbe scommesso che saremmo arrivati oggi a spegnere dieci candeline ha concluso il console Emanuele Barbara durante il concerto è stata ricordata la figura di Tiziana Tormina in un lungo ed emozionante applauso evidenziando il legame indissolubile tra la comunità e coloro che hanno contribuito alla sua secolare storia di Tiziana Tormina